Cari amici telespettatori, volevo ricordarvi l'appuntamento per venerdì e sabato in via mandri con il mercatino con i lavoretti di Mimosa89. Per maggiori informazioni, guardate la pagina Facebook Mimosa89 e vedrete tutte le creazioni della professoressa Moire Cogliolato, che appunto fa mercatino, quindi volevo fare questa telepromosizione per spingervi ad andare a vedere i lavori di Moira, perché è veramente brava e merita. Detto questo vi do appuntamento al prossimo video e saluto tutti i miei amici che mi conoscono e spero che siano in tanti ad andare. Un bacione dal boss Samuele con il volato aspirante conduttore. Grazie. Grazie. Grazie.